Questa è chiaramente una bicicletta che possiamo considerare abbandonata Il 14 aprile abbiamo posto il cartello e non si è mosso nulla, bici ferme dal 2005 Ci troviamo all'Erso di Palermo che è un ente regionale per il diritto allo studio Io sono un operatorio di sicurezza che lavora all'interno di questa struttura Abbiamo delle biciclette abbandonate ma da tantissimi anni L'ente ha provveduto a chiamare il RAP per lo sommattimento ma siamo ancora in attesa Andiamo a vedere queste bici Il ferro che viene recuperato Alla prossima Alla prossima